Vinova è una società di data intelligence. La nostra missione principale è fornire ai nostri clienti un supporto nelle scelte strategiche basato sull'analisi dei dati. Il nostro obiettivo è quello di portare al cliente le informazioni contenute nei suoi dati in una forma comprensibile ed utilizzabile nella definizione delle proprie linee di sviluppo. Uno dei partner storici di Vinova è Pentaho Business Analytics. Si tratta di una suite di business intelligence in grado di coprire tutto il ciclo di vita richiesto per creare una soluzione di analisi dei dati aziendali. I vari moduli che la compongono vanno dal processo di data integration a quello di creazione di report statistici, analisi e dashboard facilmente fruibili anche da utenti non tecnici. Ci soffermiamo sulle funzionalità di creazione del data warehouse aziendale adando ad analizzare il modulo Pentao Data Integration o PDI. PDI nasce come modulo ETL di Pentao, è in grado di farsi carico di tutti i processi di acquisizione dei dati dalle varie fonti aziendali, della loro integrazione e del popolamento del data warehouse aziendale. Nello svolgere questi compiti PDI è in grado di leggere i dati da varie tipologie di fonti che vanno ad esempio da file testuali quali CSV, JSON, Excel, XML, fino ai classici database relazionali, analitici e NoSQL. Oltre a questo con la nascita dei sistemi big data quali Hadoop, la suite Pentao è stata la prima soluzione di business analytics del mondo open source a fornire tramite lo strumento PDI un semplice accesso alle funzionalità di questi sistemi, praticamente senza alcuna necessità di programmazione. Oggi è infatti possibile utilizzare questo strumento ad esempio per eseguire i processi MapReduce e Spark in maniera nativa su praticamente ogni distribuzione Hadoop presente sul mercato. PDI è un tool destinato agli sviluppatori di processi di data integration ma non richiede scrittura di codice in quanto le diverse funzionalità sono presenti all'interno dello strumento sotto forma di blocchi da combinare per creare il proprio processo ETL utilizzando un'interfaccia grafica a drag and drop. In questo modo lo sviluppatore può concentrarsi su cosa vuole raggiungere piuttosto che pensare a come farlo. PDI oltre ad essere intuitivo è anche altamente performante grazie alla sua capacità di parallelizzare le operazioni richieste dal processo di data integration. Il flusso ETL è strutturato a partire da due entità di base, le trasformazioni e i job. Le trasformazioni sono quelle entità all'interno delle quali si sviluppano le logiche di elaborazione, quindi le operazioni sui dati, a partire dalla lettura dei sistemi sorgenti, la trasformazione dei dati letti, quindi ad esempio calcoli sui dati, integrazioni tra varie fonti, filtri, gestione delle eccezioni, fino alla scrittura del risultato finale sul sistema di destinazione. I job invece rappresentano quelle entità logiche che servono per organizzare il flusso del processo, andando a definire la sequenza delle operazioni da svolgere, ovvero le trasformazioni, e la gestione delle regole di elaborazione. La struttura modulare del processo, organizzato in trasformazioni e job, permette allo sviluppatore di richiamare la stessa funzionalità senza doverla implementare più volte e di poter definire azioni diverse da compiere in caso di eccezioni o di diversi contesti durante le esecuzioni. Grazie alla sua struttura modulare e alla sua natura open source è predisposto all'aggiunta di nuove funzionalità e offre al developer la possibilità di sviluppare autonomamente nuovi blocchi di elaborazione, così come un vasto marketplace dal quale scaricare plugin aggiuntivi messi a disposizione dalla community degli sviluppatori. La versatilità dello strumento si completa con la possibilità di lanciare i processi da linea di comando, rendendo così ogni processo in grado di poter essere utilizzato su qualsiasi sistema operativo, Windows o Linux, e di poter sfruttare le funzionalità di scheduling native del sistema operativo stesso o di sistemi esterni, ad esempio Orsi, Potivoli. Per ulteriori informazioni riguardo Pentao e le altre soluzioni e prodotti proposti da Binova, visita il nostro sito web oppure contatta il nostro settore marketing and sales.